Siamo qui perché vogliamo essere vicini a tutte quelle donne, quei bambini, quegli uomini che sono imprigionati nel buio, nelle tenebre della guerra, della persecuzione, della violenza, della miseria, delle mafie. Siamo qui perché la prima cosa che possiamo fare è reimparare a prenderci cura gli uni degli altri. Buon cammino a tutti, partiamo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!